La scomparsa di un giovane di 22 anni, Davide Colucci di Alberobello, è stata denunciata dai genitori che lo hanno visto per l'ultima volta uscire di casa domenica alle 13.30 con indosso abiti da casa. Pantaloncini gialli con fasce bianche, una t-shirt grigia con scritta DAF e scarpe da ginnastica. Davide non ha preso le chiavi dell'auto né il telefonino ha spiegato un parente precisando che il cellulare era da tempo fuori uso. Davide, impiegato nella stessa azienda dove lavora il padre metalmeccanico, non avrebbe detto nulla ai genitori prima di uscire da casa. A un fratello più grande i familiari escludono che possa essersi allontanato in treno in quanto le corse delle ferrovie sud-est che collegano Alberobello ai centri limitrofi vengono interrotte la domenica. La scomparsa del giovane è stata denunciata ai carabinieri ed è stata chiesta la collaborazione del sindaco di Alberobello, Michele Maria, per la pubblicazione di un appello sul sito istituzionale del comune.